Ho capito, ma noi siamo qua fuori, anche se non si rende conto, adesso aumenta, cioè questo tuo comportamento qui è sbagliatissimo, create dei disagi enormi, fate un cartello, la famiglia non vuole, stop, se non andiamo, ma non può stare così. Ma perché se scondiamo il posto di un uomo? Ma fatti, voi non ho pensato così. Come c'è matto? Vatti più là e qui c'è qui. Ma cosa è sbagliare, ma mi dirà che mi sono conoscenze. Però non voglio, non è che. L'arrestano. No, sono i poliziotti di là. No, questo è un giornalista. Si stanno i poliziottini lì, comunque. No, sono tutti in borghese. Sono tutti in borghese quelli lì, sono tutti i poliziotti, guarda. Ecco il camion, non vamo passare. Oh signore, questo è il patico. Aprite. Aprite, aprite di tutti quanti. Siamo pochi amici. Sono 40 anni che canta. Aprite. Vergognatevi. 40 anni che canta. Stato, questa volta non ci deve condannare. perchè li so pazze li so pazze non c'è scassato non c'è scassato roba no, ma morta novecenni e ramassa il roino per fargli il contentino una vergogna, una vergogna vogliamo di vergogna una vergogna, uno che andava a 40 anni è uno e ancora deve subire queste cose chi ha da fare appino? chi ha da fare appino? solo loro devono vedere vergogna! bravo! vergognatevi! sono 40 anni che cadono queste canzoni vergognatevi! vergogna! abbiamo chiesto un minuto bastardi! un minuto! gente non viene da la volta 150 km non è errore che faccio sempre no, allora poi lo faccio non è successo non è successo non è successo è successo è successo è successo è successo